Non mi alzo, giro dall'altra parte, stessa cosa. Grazie. Perchè di scendere con un uomo corrispondente alla stessa gamba. Ah, giù, 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 giù. Espirate profondamente, lui sbagli, i gomi tra l'altro la mano di due, quindi si spacca la mano di due, ok? Quindi tira a destra, noi ci chiudiamo e rispondiamo con un altro destra e cerchiamo di andare a capire la faccia, vai. Senza copione, poi facciamo, riprendiamo il copione, facciamo 17, 32, chi ancora non l'ha sparato? Allora tutto il resto non conta. Guarda che c'è quello delle patatine, delle cose, chiamalo. Ma ce l'hai mandato tu? Sì, perché? Volevi andarci tu? Sì. Ah, no. Allora, ragazzi, va bene. Tutti questi cacini, è un simbolo. E' una droga, è una droga, è una droga. Non si può tornare indietro, quando sei un'altra, devi fare lo spagio! Noi, cazzo, basta! Passa a sta caccia di panna, muoviti! Cazzo! Ma non è cazzato se lo metto in traversa. Ma va, ma mettilo dentro subito, così stiamo tranquilli e cominciamo ad attaccare, dai! Ciao!